Continuano un'iniziativa in vista della giornata evento del 14 aprile all'Aquila, quando lo stadio Fattori si colorerà ancora una volta del grande rugby internazionale, con la doppia sfida tra l'Aquila Rugby Club e CUS Genova. A seguire, Zebra e Dragons. L'Aquila ovale, comitato promotore dell'evento, ha lanciato nelle scuole elementari e medie di tutto l'Abruzzo due bandi creativi, rivolte rispettivamente agli studenti delle primarie e delle scuole secondarie di primo grado della regione. Un'iniziativa ideata con l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. Il primo concorso, quello rivolto ai piccoli delle primarie, si chiama Color alla maglia delle zebbre dell'Aquila Rugby. Bambini e le bambine potranno colorare del materiale fornito a scuola e raffigurante le maglie delle zebbre dell'Aquila Rugby. Una giuria premerà i 5 migliori elaborati, considerando un premio materiale di merchandising dei due club. Il secondo concorso, rivolto agli studenti e alle studentesse delle secondarie di primo grado, si chiama Rugby lo sport che unisce e consiste nell'ideare uno slogan con un hashtag per la giornata del 14 aprile, liberando fantasia, originalità e immaginazione. Anche in questo caso la giuria, composta da rappresentanti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, nominerà 5 vincitori. L'ufficio regionale è arrivato opportuno tramite il coordinamento di azione fisica, fare un bando di concorso riservato alle scuole primarie e alla scuola di primo grado, cioè sarebbero le scuole medie. Di primarie abbiamo dato il titolo «Colora la maglia delle zebbre» nei vari colori e nello spirito che hanno i bambini ormai della scuola primaria, mentre per quanto riguarda le scuole medie abbiamo detto di creare e istituire un hashtag. Questa è soltanto un'iniziativa di cui noi andiamo molto fieri per quanto riguarda il mondo del rugby, per i valori che questo sport può dare ai nostri ragazzi nel mondo scolastico. Poi non dimentichiamoci che siamo un po' fiori all'occhiello a livello nazionale, perché negli ultimi anni le scuole di Abruzzo, ma prettamente dell'Aquila, sia la scuola medie da Dandelighieri che l'istituto industriale, che il liceo scientifico a Bafile, hanno avuto l'onore di vincere il titolo italiano dei cambiati studenteschi di rugby. Questo progetto, l'Accademia delle Belle Arti, svolge il ruolo proprio di giuria e di controllo dell'estetica dei progetti che saranno presentati. E quindi sarà interessante vedere anche come risponderanno i ragazzi, con quali colori, con quale rappresentazioni. L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila è un'istituzione nazionale, estremamente attenta agli eventi del territorio. Ecco perché siamo particolarmente grati al comitato organizzatore L'Aquila Ovale di averci invitato. Continuano intanto le prevendite della giornata ovale, che prenderà il via alle 14.30 con la sfida di Serie A tra l'Aquila Rugby e Cus Genova e avrà il suo clube alle 17 con il mezzo di Pro 14 tra Zebra Rugby Club e Dragons. Info e prevendite in città, sui circuiti Ciao Ticket e Live Ticket e sui siti web e piattaforme sociali di Zebra Rugby Club e l'Aquila Rugby Club. Grazie a tutti.